Avete mai sentito parlare della donna di Neandertal? Forse no! E della mamma di Neandertal? Ancora di meno! Allora insieme a Sandro Natalini abbiamo provato ad immaginarcela. Secondo noi la mamma di Neandertal era una tipa molto tosta, energica, sempre in movimento, doveva essere una grande cacciatrice e poi era esploratrice, andava in giro alla ricerca di erbe curative. Infine era una grande raccontatrice di storie e una piccola ingegnera che sapeva costruire oggetti anche complessi con materiale di riciclo. Insomma una donna davvero laboriosa, intelligente ed emancipata. Auguri a tutte le donne! Grazie!